UAB in attesa di ordini Colpo a segno Colpo fulminante pronto Colpo fulminante alleato in ordine Colpo fulminante alleato online UAB alleato in ordine Cuartato a segno Colpo fulminante alleato in ordine Colpo fulminante alleato in ordine Adesso Un minaccio arrivò! Un minaccio arrivò! Un minaccio arrivò a Pazzuglia! Riccardo! Bersaglio centrale! Drone da incominazione!